e se si sta normalizzando la situazione in casa notaresca? Sì, si sta normalizzando. Siamo stati subito bravi a fermarci, a fare allenamenti singoli per cercare di non aumentare i numeri di casi. Quindi devo fare un applauso al mio staff tecnico, alla società che sono stati subito bravi. Però ci ha forzato di saltare due partite che in questo momento era meglio giocare. La situazione è sotto controllo, il gruppo squadra ha fatto il giro di tamponi merdi e siamo tutti quanti negativi, ci siamo tornati a allenare il gruppo. Questa è la cosa più positiva, adesso man mano recupereremo i nostri positivi anche se stanno benissimo, quindi di questo aspettiamo che rientrano in gruppo. Noi sicuramente abbiamo costruito una squadra forte, è logico che quest'anno più che mai, l'anno scorso eravamo noi nel campo basso che ci siamo giocati il campionato fino a tre partite della fine. Invece quest'anno credo che ci saranno più squadre, sarà un campionato sicuramente molto più bello e quindi ci sono tante difficoltà. Chi tiene più botta, chi perderà meno partite, questo campionato arriverà in fondo e lo vincerà. Perché Massimo questo notaresco in casa sembra un po' buttare al vento quello che di ottimo fa in trasferta? Ma secondo me ci possono essere tante risposte, sicuramente le due partite in casa perché poi col basso girato abbiamo fatto una grande gara. Le due partite in casa il dispiacere mio è che non abbiamo proprio giocate. credo che sia riguardante molto l'aspetto mentale e quindi ci sto lavorando tantissimo perché è una squadra che fa quattro partite fuori di cui ne vince tre e una ci pareggiano sul rigore inesistente a Porto d'Ascoli al novantesimo. credo che qualche domanda me le pongo, credo che sia molto l'aspetto mentale e ci stiamo lavorando e mi auguro che già la domenica prossima facciamo una grande gara in casa.